Ciao a tutti Ciao 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 Benvenuti sul mio canale Feiri ASMR Io sono Federica e quello che state per guardare è un nuovo video ASMR rilassante in particolare questa volta vedrete uno show and tell uno show and tell speciale in collaborazione con YesStyle un'azienda che rivende tantissimi prodotti soprattutto relativi alla skin care e in particolare la skin care coreana che come molti di voi già sapranno è tra le più avanzate del mondo vi consiglio per la visione di questo video di indossare le cuffie o gli auricolari come al solito e di mettervi comodi e di stendervi lasciandovi guidare dai miei sussurri e dal suono degli oggetti che vi mostrerò e come al solito se l'idea vi piace fatemelo sapere lasciando un bel mi piace e iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti cliccando sulla campanella e scegliendo ricevi tutte le notifiche in modo da rimanere sempre aggiornati su nuovi caricamenti bene non vedo l'ora di iniziare ecco come potrete vedere il pacco è abbastanza grande e contiene tantissimi prodotti che non vedo l'ora di mostrarvi ah mi raccomando guardate sempre giù in descrizione perchè in questo caso io ho lasciato un codice sconto riservato a voi per fare acquisti proprio sul sito quindi cliccate sul link e inseritelo in fase di acquisto per ricevere appunto uno sconto sulla vostra spesa andiamo a vedere primo oggetto che ho scelto tra l'altro è arrivato tutto imballato perfettamente e io conoscevo già il sito di Yesstyle perchè me ne aveva parlato una mia amica che è patita di questo sito e compra sempre da lì ed è stata lei tra l'altro a parlarmi per la prima volta della skincare coreana con un'esperienza diretta quindi mi sono incuriosita davvero tanto allora quindi il primo prodotto è la peach si PR box vedete peach beauty by peach e contiene dei prodotti che ora vado a mostrarvi ecco qua ecco qua allora la scatola si presenta così e questi sono i prodotti all'interno come potrete anche leggere da qui il tubetto contiene una sorta di base per il trucco mentre questi sono dei cushion in tre diverse colorazioni infatti il nome di questi prodotti è peach sea honey glow cover cushion con spf 50 plus e peach sea peach glow makeup base vado a prendere la colorazione più chiara che è ivory la 01 poi c'è la 02 che è beige e la 03 che è sand allora c'è lo specchietto per l'altro mi sembra con la pellicola protettiva questo cuscinetto a forma di pesca guardate che carino vediamo se fa un bel suono vediamo se fa un bel suono è morbidissimo si usa così no? per l'applicazione del prodotto sul viso e poi a questa apertura così remove the sticker before use please fully closed late after use quindi ovviamente rimuovere lo sticker prima di utilizzarlo e coprire bene dopo l'utilizzo ecco qua vedete adesso non lo metto sul viso perché è un altro prodotto però ve lo faccio vedere sulla mano è una sorta di correttore fondotinta e forse questa colorazione è addirittura troppo chiara per la mia pelle quindi penso ci vorrà quella intermedia a meno che non ossidi un pochino non è proprio un fondotinta perché non ha un'alta coprenza più non lo so una sorta di baby cream come la vogliamo definire sono piuttosto famosi questi cushion all'estero in Italia li usiamo poco comunque davvero carinissimi questo tupetto vediamo un po' se questo è colorato è una sorta di primer tete bianco buonissimo profumo sa di pesca però è un po' più dolce la fragranza non troppo forte comunque pesca vaniglia spero vi rilassi a vedere tutti questi oggettini a me questi video piacciono tantissimo allora questo è fantastico l'altro prodotto pop che ho scelto è di Peripera ed è il mini fridge è tra l'altro un prodotto in edizione limitata c'è scritto Daldal Factory io l'ho scelto nella colorazione pink quindi rosa però c'è anche in azzurro guardate quanto è bello ve lo potete già ammirare all'interno della scatola ma adesso ve lo faccio vedere aperto ovviamente contiene all'interno dei prodotti Peripera ink belted 16 vivid coral red quindi contiene delle tinte labbra in sostanza in vari colori poi vediamo vivid tint water two peach squeeze vivid tint water six pink lemon squeeze vabbè andiamo a vedere ricordatevi sempre di andare a guardare giù in descrizione che cosa sono queste cose? sono degli adesivi con scritto pericola ice cream chocolate strawberry milk guardate che belli da applicare da applicare su questi oggettini che vedete qui sono delle lattine dei barattoli adesso proverò a montarlo ma non dovrebbe essere difficilissimo comunque guardate che bello peripera 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 peripero gli scaffali immagino ci perderò un po' di tempo dopo e lo farò guardate tra l'altro quanto sono super cute questi ditte vivid water e ink cheek ah si 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 ink velvet ink cheek e ink multi credo che questa possa essere utilizzata come blush questa velvet quindi sarà come ditta labbra forse della consistenza di velluto non lo so e questa invece forse anche come contouring bellissimo ma andiamo oltre perché non è finita qui io comunque vi ripeto che se non avete mai visitato questo sito dovreste farlo assolutamente perché è veramente pieno di cose interessanti e tra l'altro mi sono fatta consigliare appunto dalla mia amica esperta per prendere i marchi migliori comunque i prodotti più interessanti allora è arrivata questa borsa ditemi se non è meravigliosa ovviamente la cintura per portarla a spalla altra cosa e a forma di macchine fotografiche con queste ciglia qui guardate bello e l'obiettivo che ha la sua zip quindi questa è un'ulteriore tasca in realtà dentro ci sono gli altri prodotti che ho scelto per esempio qui mi hanno messo vediamo un po' cos'è questo? cos'è questo? allora ah sì sì della Innisfree che è una delle marche migliori canola anelli palma quindi un balsamo labbra al miele guardate non so perché volessi sentire il profumo attraverso il tappo forse è meglio che lo apra ah sa veramente di miele ah viene voglia di mangiarlo guardate questo per l'inverno sarà molto molto utile che bello sono super emozionata tipo una bambina piccola poi mi hanno messo questo che è un mini size del Laneige Glow in Makeup Serum questo non era ben chiuso infatti è leggermente umido il tappino non tanto eh però sì appunto è la mini 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 size e anche Laneige è un'ottima marca praticamente è un siero illuminante dalla consistenza che sento qui toccando quel pochino che fu riuscito sul tappino è molto cremoso cioè molto sempre molto nutriente e ovviamente c'è il compagno vedo l'ora di provarlo nel caso penso che prenderò anche la full size sempre che ci sia però mi pare di sì guardate che carino poi fa un suono meraviglioso wow ci vuole un video solo con questo trigger in pratica quindi questo poi scritta pure la scritta fashion dietro è così c'è un'altra tasca vediamo un po' apriamo quella principale che c'è dentro? che c'è dentro? Innisfree Green Tea Seat Serum double squeezed green tea and green tea seeds seed from the non so come si lecca Jayu Island questo in pratica è un altro siero al tè verde c'è scritto siero concentrato che apporta idratazione con un mix bilanciato di estratto di tè verde Jayu credo si legga così ma forse Jayu comunque è una località e olio di semi di tè verde per una pelle sufficientemente idratata e un incarnato luminoso in salute l'appoggetta si presenta così la boccetta si presenta così vedete? vedete? ha questo erogatore coperto ovviamente con la protezione anche questo mi incuriosisce molissimo poi 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 vediamo vedete questo è una BB cream perfect cover BB cream di Misha mi pare che Misha sempre che si legga così sia una marca un pochino più commerciale rispetto all'indisfree però mi attirava troppo questo orsetto vedete? guardate che carino e adesso vi mostro il packaging eccolo guardate ovviamente appunto questa è una BB cream da 50 ml è la numero 21 mi pare che esista in tre colorazioni e credo di aver preso quella intermedia se non mi sbaglio mi fa impazzire lo faccio dell'orsetto con impace mi pare che anche questa sia una limited edition vedete? 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 profumazione buonissima sa di salviettine quelle per disinfettare le mani quelle per i bambini però ha un profumo molto talcato delicato sono fissata per le profumazioni scusate vedete che non si percepisce quasi quindi si fonde bene con il colore dell'incarnato ottimo desideravo da non so quanto tempo una baby cream e non vedo l'ora di provare questa soprattutto mi incuriosisce la durata perché insomma le baby cream solitamente durano un po' meno dei fondotinta sulla pelle però vorrei proprio testarne la tenuta poi questo mi pare sia il penultimo proprio punto no non è vero ce ne sono altri due allora questa è di elisavecca e anche questa mi sembra sia una marca un pochino più commerciale ma comunque interessantissimo dal mio punto di vista e i pack sono fantastici c'è scritto elisavecca milky peak carbonated bubble clay mask e in pratica è una ah no forse forse questa qua non era tra le marche più commerciale perché mi pare che me l'avesse suggerita proprio la mia amica comunque in ogni modo il prodotto è una maschera tipo al carbone dovrebbe essere colorata di scuro che fa tutte le bollicine quando viene applicata dico ma come può non essere meraviglioso questo pack ecco altrimenti è sigillata ecco qui comunque si sul sito poi ci sono tutte le dimostrazioni lo so mi incurisiva tanto e quindi l'ho presa credo sia una maschera purificante e non lo so forse anche spiancante nel caso abbiate delle macchioline sulla pelle carina comunque poi ho preso questa polvere peeling che serve per una detersione profonda del viso di bag all'impiscus quindi saprà di fiori praticamente vedete qui dietro ci sono le istruzioni per applicarla comunque reagisce con tanto l'acqua è colorata come il mio sfondo adoro e infine siamo arrivati all'ultimo prodotto wow sempre di Innisfree questa è una crema con tornocchi della quale avevo sentito parlare benissimo crema con tornocchi all'orchidea sempre di questo di questo posto che per favore scrivetemi nei commenti come si pronuncia è scritto j e j un sheshu yeyu non lo so pare che questa sia molto nutriente e idratante un buon anti-age anche anti-borsi anti-occhiaie insomma levigante a diverse proprietà vedete il bag è questo questo carinissimo viola scusate se ogni tanto guardo nell'anteprima ma sono attratta dai colori di questi prodotti mi piace tantissimo guardare la resa che fanno anche in camera ha già ovviamente la protezione non voglio aprirlo perché devo prima terminare il mio contorno occhi però questo è stato già testato dalla mia amica quindi siamo sicuri che sia un ottimo prodotto specialmente per le persone diciamo dai 25 anni in su bene spero davvero che tutti questi prodotti che vi ho mostrato vi siano piaciuti per favore lasciatemi giù un commentino con scritto qual è il vostro preferito quello che vi ha incuriosito di più o che magari ha il suono che vi è piaciuto di più che vi è rilassato di più e non dimenticate di farmi sapere se il video è stato rilassante magari interessante lasciando un pollicino e niente vi ringrazio per essere stati qui con me guardate sempre nell'info box perché c'è appunto il link al sito e il codice ascolto per voi e niente noi ci vediamo se vi va nel prossimo video bacini adesso tocca a te hai già lasciato il mi piace iscriviti e clicca sulla campanella per non perderci di vista oppure abbonati se vuoi sostenermi ed entrare a far parte della Fairy Crew ah e se vuoi continuare a rilassarti clicca su uno di questi altri video che ti lascio qui intorno penso possano piacerti buonanotte ok ok Grazie a tutti.